Cari amiche, eccoci ritrovati in una nuova puntata dedicata alla decorazione. Oggi dobbiamo terminare la nostra antina di recupero. Come abbiamo visto nella precedente puntata, eravamo partiti da una base come questa, quindi un classico mobile che tutte possiamo avere in casa, e l'abbiamo trasformato in questo modo qua, dove abbiamo fatto una tecnica di decappaggio per creare questo effetto di logorio del tempo in stile shabby, una anticattura sulla cornice e la parte della velatura riprendendo il verde dei pomelli. Nella puntata precedente siamo arrivate a decorare la nostra antina in stile shabby, come potete vedere qui. Guardate in questo punto dove abbiamo carteggiato quasi ad arrivare proprio al legno naturale del nostro mobile. Il colore tabacco abbiamo visto che si va un po' a miscelare con il bianco e abbiamo creato queste parti belle rovinate. Questa parte qui la andremo a antichizzare, la parte interna invece andiamo a creare una velatura. Quindi come facciamo a creare una velatura? Invece di farla verde la facciamo rosa caramella, tanto per cambiare un attimino e creare una sfumatura differente. Quindi andiamo a mescolare per bene la nostra base, ecco qua, perfetto. E andiamo a utilizzare un po' di acqua, quindi mettiamo qua che così siamo a favore di camera, mettiamo un po' di acqua all'interno del nostro piattino e andiamo a diluire il prodotto, andandolo a mescolare bene. Ecco qua. Allora, il mio colore è molto molto coprente, quindi anche se l'ho diluito così rimarrà ugualmente coprente. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a tirare un po' il colore in questo modo e poi lavoriamo con l'acqua in questo modo. Ed è per questo che molte persone chiamano questo effetto bagnatura, ma realmente è una velatura. Quindi andiamo a tirare il colore tanto 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 con l'acqua. Vedete, anche se abbiamo diluito tantissimo il prodotto, andiamo a mettere tantissima acqua, quindi una proporzione quasi 20 di colore e 80 di acqua. Quindi andiamo a lavorare in questo modo per creare una velatura. Allora noi lo possiamo utilizzare in questo caso sulla base fatta in shabby, ma se noi lo lavoriamo su una base fatta in, cioè non decorata, quindi che vogliamo vedere le venature del legno, possiamo andare a crearle. Possiamo andare a crearle, possiamo vedere in evidenza, ok? Quindi andiamo a bagnare, quindi diamo un effetto molto bagnante per creare una velatura, ok? E qua vedete come continuo a lavorare col pennello avanti e indietro. Adesso prendo un pennello asciutto per andare a tornare l'eccesso di prodotto che non mi interessa e vado a sempre stendere lasciando che il colore asciughi in modo naturale o con il phon per dare questo effetto rosato all'interno. Do un po' di prodotto, sto pulendo le setole del pennello perché se no me lo continuerei a tirare dietro il colore. Do una passatina un po' anche ai bordi perché posso avere un po' sporcato, quindi vado non a mettere colore ma semplicemente a spostare il colore che è già presente sul bordino. In questo modo. Ecco qua. Ecco qua. Lasciarlo asciugare a temperatura ambiente è la cosa migliore. Se noi, siccome le velature noi le abbiamo già viste quando abbiamo fatto gli effetti corrosione, vi ricordate che se noi alziamo e lasciamo asciugare si crea la classica goccia, la goccia che scivola. Ok? Quindi dipende sempre dalla tecnica che vogliamo utilizzare. Attenzione che se lavorate su mobili in verticale dovete stare attenti di non vedere le colature. Allora in quel caso dovete farlo con delle velature molto molto leggere. Allora fatto questo lo lasciamo asciugare e nel tempo che questo asciuga, allora questo qua lo andiamo subito a chiudere, vi metto i guanti e vado a prendere la cera anticante per creare gli effetti di anticatura. Datemi un attimo. Ecco qua la nostra cera anticante, che sapete questa è la confezione piccola da 100 ml, o se no c'è la confezione grande da 500 ml, e questa è la mia cera neutra. Allora se è un mobile, prima la cera neutra e poi la cera anticante. Essendo esclusivamente un'antina, potete lavorare direttamente con la cera anticante, la nuova formula. Mettetevi un guanto, potete utilizzare i kit dei pennelli per la cera, che non si lavano mai, quindi con il pennello piccolo prendiamo un pochino di cera, l'andiamo a mettere sulla nostra base, faccio questo pezzettino qua, ok? Quindi lo andiamo a tirare bene in questo modo qua. Cosa importante, ricordatevi sempre di fare anche i bordi. Scendo un po' qua, non troppo perché questa parte ce l'ho ancora bagnata. E con un pennello più grande vado a tirare la mia cera, in questo modo, ok? Vado proprio a tirare per bene il tutto. Vi vorrei far vedere questo particolare. Guardate questo particolare qua, che sembra proprio una tarlatura. Questo è il mobile molto rovinato, quindi tutte le parti che sotto sono rovinate nel momento in cui noi andiamo a mettere un colore o nel momento in cui noi andiamo a mettere una cera, vengono in evidenza. Io gli adoro questi effetti naturali di logorio del tempo. Ci sono persone invece che stanno a stuccarli. Non si stuccano, è bello vederli così, ok? Quindi andiamo a lavorare. Questo è di tanta pazienza, nel senso che comunque non posso fare tutto e dopo andare a riprendere i pezzettini. Devo farò più fare, perché sennò te li dimentichi, ci stai più ore a guardare i pezzi che ti sei dimenticato che a farlo pezzettino per pezzettino. Quindi un po' di cera anticante. Io adesso lo faccio scivolare giù così per poter lavorare bene. Logicamente sapete che se dovete fare delle cose molto grandi è meglio lavorare sui cavalletti e non sul tavolo. Se lavorate sui tavoli non usate mai la carta da giornale per proteggere il tavolo, ma bensì dell'avellino o della carta pulita, perché la carta di giornale potrebbe andare a rovinare con l'inchiostro la nostra decorazione. e così via. E andiamo a creare l'anticatura a pennello. E la andiamo proprio a tirare. Quando il colore fa fatica a tirarsi, come qua stavo cominciando a fare un po' fatica, devo andare a prendere la cera neutra e ecco qua con la cera neutra vado a far scivolare ancora di più la cera. La cera oltre che a fare l'effetto di anticatura crea anche quegli effetti di protezione per il nostro mobile e soprattutto ce lo mantiene bello nel tempo. Altra cosa importante, la cera non è bagnante. Non essendo bagnante non fa uscire il tanino che in alcuni legni possiamo trovare. Quindi vi invito a leggere sul mio sito, nel blog, tutte le varie spiegazioni del tanino, delle cere e delle varie finiture. Soprattutto quali sono i legni che hanno il tanino. Insomma, sono belli i video, sono belle le puntate, ma anche leggere un bel testo di come si fanno le cose è una cosa bella. Ecco qua, andiamo a lavorare e devo fare tutto in questo modo tutta la cornice. Quindi adesso in velocità, poi con calma andrò a rivedere i pezzettini mancanti perché volevo farvi vedere che cosa possiamo fare all'interno della nostra velatura. Ecco qui, andiamo a lavorare in questo modo. Poi dovrò fare questo pezzettino qua, mi raccomando voi. Io adesso lo lascio stare, ma mi raccomando voi fatelo. Quindi c'era neutra e c'era anticante è comunque una base che bisogna sempre avere. Qui non lavoro poi così tanto sul bordo perché anche in un secondo momento lo posso fare. Ecco qua. Perfetto. Allora, quando si decora un mobile, cari amiche, si è quasi sempre per terra, ok? Perché non sempre i mobili li possiamo mettere su cavalletto e quindi bisogna sempre avere la possibilità di girare attorno al nostro mobile. A questo punto mettiamo via i nostri pennelli, mi tolgo il guanto, prendo un attimo il phon e asciugo, quindi datemi qualche istante. Ecco, adesso abbiamo terminato, diciamo, la parte della velatura centrale, abbiamo fatto la nostra cornice anticata, logicamente è diversa da quella che abbiamo visto prima perché è proprio diversa l'antina, però la tecnica con cui è stata fatta questa è stata fatta anche questa qua. Su questa adesso che cosa possiamo aggiungere? Non perché questa qua ha la sua bueserie di rialzo e così via, quindi o uno la dovrebbe andare a dipingere, che non è che sia un granché, o possiamo andare a giocare con degli stencil. Allora, io qua ho la mia, i miei stencil, ok? Andiamo a vedere se possiamo, allora queste qua sono le cementine che ci potrebbero stare bene nella parte centrale, quindi potremmo lavorare con le cementine che ci dovrebbe essere anche la terza da qualche parte, vabbè non importa, però questo sarebbe bello se fossero proprio dritte, solo lo spessore, quindi non facciamo le cementine. Ho visto questo che se ci sta nella parte centrale, ci facciamo un bel welcome, ci facciamo proprio un bel welcome per così creare un effetto simpatico. Quindi da una cornice, dal modello che poi si va a ricavare, guarda, ti piace Mauro? È un effetto grazioso. Allora, spostiamo un po' di cose che non servono, perché comunque non posso lavorare storta, ma devo andare a mettermi in questo caso il mio stencil bene al centro. Allora, tu Mauro guardami qui, che così io guardo dalla telecamera dall'alto, perfetto, se siamo centrate giuste. E andiamo a creare il nostro welcome in questo modo. Allora, prendo un tampone che ce l'ho qui, prendo la mia battitura, lo facciamo sempre in rosato, ok? O anche in bianco. Facciamolo in bianco. Allora, andiamo a pulire il nostro stencil, ok? Prendiamo il bianco. La cosa importantissima degli stencil è che bisogna sempre scaricarli, quindi prendiamo il colore, ok? E lo andiamo sempre a scaricare in questo modo. Allora, questo è posizionato giusto. Io non metto un pezzettino di scotch, se volete potete mettere un pezzettino di nastro per proteggerlo, cioè per proteggerlo, per tenerlo fermo. E facciamo una battitura quasi colore su colore, perché sotto era sporco di rosa, quindi si va un attimino a mescolare. Quindi in alcune parti ci sarà più rosa, in altre un po' più di bianco. Se volevamo, potevamo farlo anche a rilievo, eh? Andiamo a... Andiamo a vederla. Sbirciamo, Mauro, un po', eh? Guarda. Proprio molto, molto delicata, quasi che non si vede, ok? Allora, sicuramente quest'anno è l'anno degli stencil. Vi invito anche a seguire tutte le mie pagine, sulle mie pagine social, e sul sito vedere nel catalogo tutti gli stencil nuovi, perché ce ne sono veramente tantissimi, e ti permettono, insomma, di fare tante cose veramente simpatiche. Quindi adesso andiamo a riprendere un po' il tutto e andiamo a sollevare il nostro stencil. Quindi, fino che lo stencil è bagnato, andiamo a sollevarlo, ok? Adesso lo metto qui, poi lo andrò a lavare subito, subito. Ecco il nostro pannello con la nostra scritta Welcome. Io, ragazze, spero che vi sia piaciuto anche questo progetto. Nel salutarvi, vi mando un bacione grandissimo, seguitemi su tutte le mie pagine social, e se volete fare un corso con me, è abbastanza che mi scriviate sul mio indirizzo di WhatsApp. Un saluto, ciao ciao! Ciao!